Buongiorno, buon martedì 23 novembre. Si apre l'edicola di 8 Channel con le principali notizie del giorno e partiamo subito insieme con questa edicola sfogliando insieme lo storico quotidiano Il Roma che titola con un titolo gridato Senza vergogna, rapina in pizzeria, mitra in faccia ai bimbi, tre arresti nella banda, un uomo è dei di Lauro. Sono bastate poche settimane agli inquirenti per risalire all'identità degli uomini che fecero irruzione in una nota pizzeria e terrorizzarono letteralmente famiglie, giovani, anziani che si trovavano appunto per una serata tra amici in questo luogo e si videro assaltati da questi banditi spietati. Vedete proprio una sequenza in prima pagina con i volti dei presunti autori della rapina, della feroce rapina. Continuiamo a sfogliare in Roma, torneremo su questa notizia, vaccini, mattarella, seguire la scienza Il Presidente ribadisce che sono le ultime settimane del suo mandato, quindi nessuna intenzione di prorogare l'incarico a capo dello Stato che invita tutti all'immunizzazione di massa e dice Italia all'avanguardia nella considerazione internazionale quindi un'Italia virtuosa che ha dato esempio di buona amministrazione in tema di campagna vaccinale Continuiamo insieme Il Super Green Pass Il governo apre terza dose a cinque mesi Ecco la circolare del Ministero L'appello di speranza su Twitter Continua il pressing della regione, preoccupazione per il Natale L'obiettivo è premiare chi si immunizza Ma vediamo subito qual è stata la posizione del governatore della regione Campania, Vincenzo De Luca Come sempre avviene nel fine settimana, con meno test eseguiti, si impenna la curva dei contagio in Campania Nell'ultimo bollettino sono 591 nuovi positivi con l'incidenza che supera il 4% Nel report dell'unità di crisi si registrano anche 7 decessi Il leggero calo sia i ricoveri in terapia intensiva che nei reparti ordinari Ma Vincenzo De Luca lancia l'allarme sull'aumento dei contagi soprattutto tra le fasce più giovani della popolazione Ad oggi reggiamo Ma cominciamo a registrare un livello di contagio soprattutto della fascia 12 anni, 15 anni che non può non preoccuparci Da De Luca non sono poi mancate stoccate al governo sulla necessità di rafforzare il certificato verde Io continuo a ripetere che una settimana perduta significano altre migliaia di contagi che noi dobbiamo registrare Quindi mi auguro che il governo vada avanti ad oras, non a settimane perché non abbiamo tempo da perdere Il governatore ha poi ostentato tranquillità sull'istruttoria della Corte dei Conti per le spese covid sostenute dalla regione durante l'emergenza Parole quelle del governatore scandite a margine della conferenza stampa di presentazione degli eventi in programma per Procida, capitale della cultura È stata scelta Procida perché il progetto è stato vincente da un punto di vista degli eventi culturali che sono stati proposti ma anche del progetto strategico che è stato elaborato Intanto a Napoli ha fatto discutere la scelta dei familiari di un 65enne deceduto in queste ore Accanto al nome, sul manifesto funebre, i parenti hanno voluto precisare come l'uomo fosse morto nonostante le due dosi di vaccino Le affissioni tra fuorigrotta e bagnoli sono ben presto diventate virali sui social Ma intanto se avviamo verso le settimane calde del Natale Ovviamente i turisti sono in arrivo a milioni, soprattutto a Napoli E proprio in virtù dell'emergenza pandemia il sindaco Manfredi dice Pronti a chiudere il centro storico affollamento eccessivo per le feste È necessario regolare l'affluenza È in preparazione l'ordinanza del sindaco per contingentare l'accesso sui decumani Nel cuore del centro antico della città In caso di eccessivo affollamento delle strade il sindaco anticipa l'ordinanza Faremo un'ordinanza questa settimana, spiega Manfredi Per contingentare l'accesso ai decumani e per fare in modo di limitare l'accesso quando l'affollamento diventa insostenibile E parlando del weekend appena trascorso dice Abbiamo la città letteralmente invasa dai turisti Il Natale e Napoli vanno vissuti in tutta sicurezza, soprattutto in virtù del Covid Intanto parla ancora il governatore De Luca che sulla Corte dei Conti Il caso Corte dei Conti dice Spiegheremo le nostre scelte, servono misure urgenti Il governo è in ritardo Continuiamo a sfogliare in Roma E si riparla a livello nazionale della morte del campione Pantani Terza inchiesta, riapertura decisa dalla procura dopo l'audizione dell'ex pusher all'antimafia Mirados aveva detto che secondo lui il pirata era stato ucciso illegale della famiglia Dice ora vogliamo subito chiarezza Questa è una notizia di ordine nazionale E adesso continuiamo con la rassegna nazionale Sfogliando insieme gli altri quotidiani Partiamo da Repubblica Napoli Che parla proprio del vaccino verso l'obbligo per agenti e professori Misure sempre più severe per provare a fermare il coronavirus L'opzione nel piano straordinario di controlli Pd e Forza Italia favorevoli Fratelli d'Italia, scusate Il sondaggio Ipsos Italiani divisi sui brevetti liberi Andiamo all'interno Il primo piano subito con l'approfondimento sul tema della violenza sulle donne 86 casi al giorno Draghi aiuti subito E' un crimine odioso 109 femminicidi Aumento dell'8% rispetto al 2020 Ma cresce il numero delle vittime che denunciano vessazioni e abusi Questi sono i numeri che preoccupano E Roia che è il giudice specializzato proprio nella violenza di genere Vedete appunto Fabio Roia nella foto Dice sempre più giovani i maschi che uccidono il rispetto va studiato a scuola Quindi l'importanza della formazione culturale dei giovani italiani Perché si possa davvero segnare il passo per dire basta alla violenza di genere Qualche vittima le assassinate Roberta Siragusa vi ricordate aveva solo 17 anni Uccisa Caccamo a gennaio dal suo fidanzato Pietro E poi ancora guardiamo i volti di queste donne Vanessa Zappalà 26 di anni Uccisa da Citrezza dal suo ex Antonio Sciuto E poi Cecilia Azzana l'ultimo femminicidio Venerdì scorso 34 anni peruviano Peruviana è uccisa da Mirko Genzo Che di anni vedete ne aveva 24 Lei è Cecilia Azzana Andiamo avanti Polizie e docenti Vedevamo in apertura Il governo pensa all'obbligo del Green Pass I limiti ai Novax che debbano essere necessariamente sempre più severi La necessità di immunizzare gli agenti anche in vista del piano straordinario dei controlli E la regione dice per chi è senza siero stop a bar cinema già in zona bianca O se scatta il giallo Quindi un vero e proprio giro di vite Per provare a fermare il coronavirus Brusaferro La dose ai bambini è sicura E frena i contagi I genitori Si devono fidare Parliamo di Silvio Busaferro Che guida l'Istituto Superiore della Sanità Vediamo qualche passaggio Proprio dell'approfondimento Con lo specialista Prendere il virus non è una libertà contro il Covid Servono vaccinazione, mascherine e distanziamento Le pillole antivirali non sostituiscono l'iniezione Comunque avremo un farmaco in più Facile da somministrare Questo è l'impegno dell'Istituto Superiore della Sanità E poi le varianti Le varianti del coronavirus Che preoccupano gli esperti La cosiddetta variante plus Veloce come la varicella Può sfuggire ai tamponi antigenici Davvero preoccupa l'allarme di Ricciardi Consulente di Speranza Sulla nuova variante della variante Perché questa è una variante della variante Delta È più infettiva I falsi negativi provocano i focolai Ma è impossibile eliminare i test rapidi In Italia se ne fanno 600.000 al giorno Crollerebbe così un'importante branca Del sistema diagnostico Questa è una notizia appunto di Repubblica Nazionale Continuiamo con le notizie nazionali Ci spostiamo su un'altra prima pagina Consultiamo insieme la prima pagina del mattino Ancora apertura dedicata alla terza dose Terza dose dopo 5 mesi Si punta al richiamo anticipato C'è il via libera dell'AIFA In Campania nessun limite di età Regioni compatte Super Green Pass Solo per i vaccinati Anche in zona bianca Poi vedete ancora La inchiesta L'abbiamo sfogliata insieme Prima Su Roma Su Pantani Fu ucciso La nuova indagine La rivelazione del pusher Sulla morte Del campione Regioni in pressing Restrizioni Ai no vax Anche in zona bianca Questa in soldoni La nuova rivoluzione Per la lotta alla pandemia Per provare a fermare Chi resiste al vaccino Speranza I gelmini aprono Ma è possibile Che il super green pass Scatti già con il giallo Draghi accelera Domani cabina di regia CDM Si lavora Per misure tempestive Che provino A fermare il virus Il grande punto Di non ritorno Potrebbero essere Le vacanze di Natale Che potrebbero essere Davvero rischiose Sul fronte Dei contagi La svolta Della terza dose Che si può fare Anche dopo cinque mesi Il sì dell'AIFA Somministrazioni Al via da domani Anche per chi ha ricevuto Il siero Johnson & Johnson Una vera e propria accelerata Quella che imprime il governo Per provare a riaprire Gli abdi smessi Nelle scorse settimane Soprattutto per accelerare Le immunizzazioni Entro Natale Una vera e propria Corsa contro il tempo L'Austria è chiusa La Francia quasi Bruxelles subito La terza dose Primo giorno di lockdown A Vienna Tre settimane Per salvare le feste La Commissione Dell'Unione Europea È pronta a varare Nuove regole Sugli spostamenti Tra gli stati Riesplodono i contagi Anche in Spagna Uno dei paesi Con la più alta percentuale Di persone vaccinate La Germania è fuori controllo Vedete Tanti errori Pochi vaccini E il nuovo governo Non c'è Un record su record Dei nuovi contagi Pesa la leggerezza Sulle misure personali E una tradizione Diciamo proprio culturale Che in Germania Va avanti contro i vaccini E poi le dichiarazioni Avventate Di Spahn Ministro della Sanità Sul razionamento Del tedesco Pfizer E lender litigiosi Quindi anche le polemiche Governative Non aiutano L'immunizzazione Ora frontiere sanitarie Chi entra dall'estero Deve essere controllato Il presidente del Veneto Proposto al governo Il testo obbligatorio Obbligatorio all'ingresso Differenziamo tra vaccinati E non E' chiaro che non si deve Chiudere più Quindi ovviamente I presidenti delle regioni Sono in aperto dibattito Su quelle che possano essere Le misure di controllo Anche per chi arriva Da fuori nazione E adesso apriamo Il nostro consueto Focus tutto regionale Che consulteremo appunto Provincia per provincia Partiamo da Repubblica Napoli Abbiamo già visto Le parole di Dino Ambrosini Appunto il Il primo cittadino di Procida Il mondo in un'isola Così sarà capitale della cultura Ieri la conferenza stampa Con il governatore De Luca La presentazione del programma E appunto De Luca che dice Una grandissima occasione Per tutta la campagna E oggi l'anniversario del sisma Malman 100 foto di De Lillo In 90 secondi In cui la terra tremò Una delle foto di Antonietta De Lillo Sul terremoto dell'80 Al museo del archeologico di Napoli Una foto che vi invitiamo a guardare In questo giorno Che conta i 41 anni dal terremoto Procida capitale della cultura Vedete appunto Il primo piano dedicato agli eventi Protagonisti arte e incontri Sarà un viaggio nelle idee Salperemo da Napoli il 22 gennaio Su un traghetto con 100 artisti Provenienti da tutta Europa E a bordo Sei spettacoli in contemporanea Il programma non è ancora chiaro Vorrei far comprendere Che non abbiamo organizzato Una Disneyland sul mare Non sarà un eventificio Ma sarà un percorso Continuiamo a sfogliare Movida a volume basso Da mezzanotte nei weekend San Gregorio a senso unico Si prova a disciplinare Movida e sembramenti Nella città di Napoli E poi ancora Coronavirus Nuovo allarme Aumentano i casi tra i under 15 Timori dei medici Il governatore De Luca Invita tutti a vaccinarsi Nel territorio dell'Asd Napoli 2 Ci sono 120 classi In quarantena 50 in quello dell'Asd Napoli 1 Vaccini in fila per la terza dose Tornano le code Alla mostra d'oltremare Anche nel lab Del Real Bosco di Capodimonte All'interno della Della fagianeria E poi c'è il City Mood Arriva dall'Irpinia Vedete il primo bus elettrico Prodotto nello stabilimento Dell'ex Irisbus Che era stato chiuso Il ministro Di Maio Dice Qui un'azienda di eccellenza Ma vediamo tutti i particolari Nel prossimo servizio E' una testimonianza importante Dell'impegno di questa azienda storica Nel coniugare qualità del prodotto Soluzioni, tecnologie e sostenibilità Parole del ministro Di Maio Nella sua tappa alla IIA In occasione della presentazione ufficiale Di City Mood 12E Primo bus elettrico in Italia Emissioni zero Interni riciclabili al 100% E massima sicurezza per utenti e operatori Questa fabbrica ritrovata Dove abbiamo detto In una zona che non esisteva Fino a un po' di tempo fa Su questa linea Con un'ingegneria ritrovata E che ha contribuito a produrre questo Che è uno dei veicoli più nuovi Ed è una nostra risposta Per tutta quanta l'innovazione Ora la sfida dello stabilimento E' sull'idrogeno Non ci fermiamo qui Continueremo con l'anno 2022 A finire l'innovamento Della gamma del VVaciti Quindi avremo nel corso del 2022 Dice, gas e elettrico E poi perché no L'augurio per il futuro 2023 Se ci riusciamo Anche un idrogeno Qui due anni fa non c'era niente Ha concluso Di Maio Solo voi operai che ci avete creduto E questa fabbrica oggi E' il simbolo delle nuove sfide Sul PNRR Io voglio fare un appello qui Da Industria Italiana Autobus Ai sindaci Ai presidenti di regione Ai presidenti di tutti gli enti territoriali Al governo centrale che rappresento Non perdiamo l'occasione Dividendoci Ma cogliamola Unendoci Questa realtà Deve essere in grado Di sfruttare i fondi del Recovery Fund In tutti i bandi di gara Che andremo a fare Per sì Favorire l'industria europea Ma prima di tutto Favorire l'industria italiana Avete visto anche lo slogan La Daggio Io Guido Italiano E poi ancora Torniamo su Napoli Dopo questa virata nelle aree interne Con il tema delle case occupate L'ombra delle sentinelle dei clan Novantenne cacciata dagli abusivi Il parroco in pericolo Anche la congrega Il prefetto per introdursi negli adloggi Approfittano di anziani e bambini Un caso davvero inquietante Annuncia un comitato per l'ordine pubblico Per fronteggiare l'emergenza Provocata dalle occupazioni abusive Il prefetto Claudio Palomba Dopo il caso di Pizzo Falcone Con l'appello lanciato Durante la messa dal parroco Si muovono le istituzioni Primo obiettivo Verificare la presenza dei clan Dietro le occupazioni abusive Andiamo all'interno Guardiamo il Pizzo Falcone Il coraggio di Don Michele Avevano assediato anche la congrega E decine di alloggi nel mirino Ora scatta la caccia alle utenze abusive Segnate dal quartiere Non manca chi sconta i domiciliari Negli immobili sottratti illecitamente E occupati abusivi anche nella zona collinare Nel tondo anche il consigliere Vedete Francesco Borrelli Da sempre impegnato nella lotta all'abusivismo Nel capoluogo partenopeo Rischio infiltrazioni Vigileremo su ogni abuso Intervista a Claudio Palomba Nuovo prefetto da poche settimane Della città di Napoli Che convoca un comitato ad hoc Tutti gli attori istituzionali Dovranno prendere parte al confronto Per introdursi all'interno delle case E fanno leva su donne, bimbi, anziani Sulle persone maggiormente fragili E poi ancora I appalti, le tangenti al comune Le gare truccate in garage Sei capitoli di spesa nel mirino dei PM Due dipendenti perquisiti dalla finanza Si indaga in una porzione di tempo Che va dal 2014 al 2020 Favorite le stesse aziende Mazzette da 30.000 euro Per ogni attività Davvero accuse pesantissime Ma adesso ci spostiamo nuovamente Dopo la virata su Procida Su un'altra isola del Golfo Andiamo sull'isola azzurra Capri per la rissa d'agosto Il DASPO a 5 persone Come ricorderete il parapiglia scoppiò in via Camerelle Protagonisti vietato un accesso ai locali E ai ritrovi dell'isola E ci furono pugni calci e lancio di sedia Per un complimento ad una ragazza Coinvolti manager e professionisti Continuiamo a sfogliare Le varie edizioni provinciali Adesso andiamo in terra di lavoro Vediamo a Caserta Quali sono le news Giunto il poker rosa di Marino Carlo Marino Riassetto in comune Il sindaco ufficializza le nomine E quattro donne Su nove assessori Spuntano le deleghe Alla creatività e alla notte Presentata in tempo utile Per il primo consiglio comunale La nuova giunta di Carlo Marino I nuovi assessori sono Vincenzo Battarra Anna Maria Sadutto Per il Partito Democratico Domenico Maglietta Ed Emiliana Credentino Per Italia Viva Emiliano Casale Che sarà anche vice sindaco Massimiliano Marzo Per il gruppo Moderati Insieme Luigi Bosco Per noi Campani Gerardina Martina Per Origini Infine Carmela Muccherino Per il Movimento 5 Stelle Quindi vi abbiamo anche Presentata la nuova squadra Che governerà appunto Il capoluogo di Caserta Presidenza Gentile Il PD a bocca asciutta Malcontento dei dem Dei colleghe secondari E Sadutto Considera la quota del sindaco Intanto Marino Alla rappresentanza femminile Dice È un segno di crescita E di grande evoluzione Quindi anche i volti Della nuova squadra Vedete appunto I nuovi partner Della giunta Marino Che potranno lavorare Ad un nuovo capoluogo Da Caserta Ci spostiamo sulla costa E andiamo a Salerno Napoli Quindi parliamo del sindaco Non molla L'offredo La proposta del sindaco Sarà lui Il presidente del consiglio Arriva l'ok Dalla maggioranza Passa il criterio Delle preferenze L'incarico al più votato Nonostante la nuova Bufera giudiziaria E ci sono comunque Molti dubbi Che arrivano Anche dai banchi Dell'opposizione Ma intanto C'è molta apprezzione A Salerno Per un problema Che riguarda L'ordine pubblico Con appunto Anche disagi Per chi viaggia Vediamo Ancora un'aggressione Nei confronti Di due dipendenti Della società Di trasporti Sita Sud In via Vinciprova A Salerno I lavoratori Sono stati raggiunti Dal lancio Di sassi e bottiglie A scagliarglieli Contro un cittadino Senza fissa dimora Rotta la porta Del bus All'interno del quale I verificatori Si erano rifugiati Un clima di tensione E timore Che non è più tollerabile Denunciano Francesco D'Amato Del dipartimento regionale Will Trasporti Campania E Gerardo Arpino Segretario generale Della Filt CGL Salerno Ormai la situazione È diventata insostenibile Ormai tra i lavoratori E tra i viaggiatori La paura cresce Per le numerose aggressioni Che avvengono In maniera costante La sicurezza deve essere Una priorità Appello al prefetto Per un incontro urgente Abbiamo chiesto Nelle ultime ore La possibilità Alla prefettura di Salerno Di un incontro congiunto Con le aziende Ed il prefetto Così da poter trovare E da poter saturare Quest'annosa vicenda Anche con l'utilizzo Della vigilanza privata In quelle aziende Dove non c'è Ma soprattutto Abbiamo richiesto In maniera unitaria Noi come Filt CGL Will Trasporti Anche di riattivare E di attivare Laddove non è stato ancora fatto Le telecamere All'interno degli autobus Come videosorveglianza Come naturalmente Deterrente Per evitare Che avvengano ancora Aggressioni All'interno del trasporto Pubblico locale Intanto scagionato Scogionato dai filmati L'investitore Torna libero La tragedia Di Corso Garibaldi Nelle imbagini Nessun elemento Idoneo Per attribuire La responsabilità Alla ventenne Attraverso il legale La famiglia del giovane Manda un messaggio Ai familiari Di Dursso Vedete il ventottenne Lo vedete in questo riquadro In questo tondo Luigi Dursso Ventotto anni Morto dopo lo schianto Dello scooter Contro un'auto In centro Queste le notizie Dal mattino di Salerno Ma adesso ci spostiamo Nelle aree interne E andiamo subito A Benevento Con il titolo Dedicato sempre al Green Pass Appello al rigore Il sindaco Mastella Dice Dai Novax Danno enorme Ristoratori Ed esercenti Siano inflessibili Folpe dice Fare la terza dose Ferrante Maggioranza dei ricoverati E senza vaccino Quindi un duro affondo Quello del sindaco Mastella Che annuncia Battaglia dura Contro i non vaccinati Ma intanto Facciamo il punto Nel prossimo servizio Sui numeri Dell'emergenza sanitaria Nel Sannio Vediamo I numeri di quest'anno Sono profondamente diversi Rispetto al 2020 Grazie al vaccino Ma questo non deve farci Abbassare la guardia La raccomandazione Arriva da Paolo Antonio Ascierto L'oncologo e ricercatore In primo piano Nella cura del covid Oggi nel Sannio Ricorderete come Israele È stato uno dei primi paesi Che ha iniziato la vaccinazione Quando hanno fatto la vaccinazione I numeri sono andati giù Dopo sei mesi C'è stata un'impennata Che poi con la terza dose Diciamo È rientrata Quindi ci troviamo Più o meno In questa stessa situazione E questo per esempio È importante fare la terza dose Lo sono sicuro Che con i vaccini Con i farmaci Che stanno arrivando Insomma Si uscirà da questa pandemia E il DG dell'Aslo Conferma Per le dosi booster Ancora pochi accessi Tutti quelli Che hanno fatto i sei mesi Quindi possono già fare Subito la terza dose Quindi su questo In voglio ancora Tutte le persone Perché ancora sono pochine Ci aspettavamo Un impatto Diverso Il contagio Nel stagno Aumenta In questo momento Il circoscritto Non abbiamo Focolai Quello che ci preoccupa Di più Sono l'andamento Delle scuole Guardando ai numeri Scende di una sola unità Il dato dei posti letto Occupati nei reparti covid Del Sampio Passa da 23 a 22 Sono invece 8 I nuovi casi di contagio E Mastella Raccomanda rigore Anche negli accessi Con il Green Pass Invito I commercianti Gli altri I supermercati Di controllare Perché Se loro guardano Soltanto al profitto Non scansano una cosa Che se guardano al profitto Non guardano al Green Pass Chi ce l'ha Chi non ce l'ha Dopodiché può capitare Che noi chiudiamo tutto Dopodiché vanno peggio Abbiamo ascoltato appunto Le parole anche Del sindaco Mastella Intanto Confindustria Asl Sinergia per potenziare Gli screening Prima tappa Limatola Esami per lavoratori E cittadini Dopo la positiva esperienza Del lab vaccinale Destinato alle attività Economiche e produttive Dell'area Asi Di Ponte Valentino Confindustria Guidata appunto Dal presidente Oreste Vigorito E Asl Propongono Il modello Lo ripropongono Di sinergia pubblico Privato Nel campo sanitario Attraverso il progetto Di promozione Della campagna Di prevenzione oncologica In linea Con le direttive Della regione Che vedrà due importanti tappe Realizzate grazie al sistema Imprenditoriale A renderlo noto È l'ufficio stampa Di Confindustria Benevento Di cui è presidente L'avvocato Oreste Vigorito Il primo dei due appuntamenti Promossi da Confindustria Ci sarà il 26 novembre A Limatola Presso l'azienda Cosmind SRL Quindi davvero Un'ascesa in campo Delle forze economiche Sannite Per rinvigorire Rinsaldare Soprattutto aiutare Il sistema sanitario In importanti Campagne Di prevenzione sanitaria Continuiamo A sfogliare Il sagno L'edizione del sagno Del mattino Droga in macelleria Scatta l'arresto Nel supermarket La mobile Scopre sotto Il bancone Mezzo chilo Di hashish E marijuana Ai domiciliari Finisce un dipendente Di 51 anni Accusato Di spaccio Di stupefacenti Quindi Lotta dura All'utilizzo Di sostanze Psicotrope Andiamo avanti Avellino Valle Ufita E lo futuro Passa di qui Abbiamo già visto Sfogliando Repubblica Il ministro Di Maio Che presenta Che ha presentato A Flumeri Il primo bus Elettrico Prodotto in Italia E poi ancora Anche in Irpinia Moscati Il covid circola Infettati Due dipendenti E Il ricco programma Di oggi Per il terremoto Tra documentari E convegni Per non dimenticare Ma adesso Dall'informazione Del mattino Ci spostiamo Sulle cronache Guardiamo La prima pagina Delle cronache I socialisti Dichiarano guerra All'offredo No alla presidenza Durante il vertice Stabilite le linee guida Del prossimo consiglio Di popolo Dice Chiediamo un nome Di alto profilo Non il criterio Di mister vuoto Quindi delle preferenze Di chi è stato Maggiormente votato Con l'antuono Sulla gradigola Pronto Castori La grana Del calcio Con i cambi Appunto Di guardia La domanda Sorge spontanea Cosa dirà L'amministratore Marchetti Il tecnico Si gioca tutto a Cagliari Per un film Ampiamente Annunciato Quindi anche qualche notizia Che arriva dal mondo Dello sport Ma adesso Dall'informazione Cartacea Ci spostiamo Sull'informazione In tempo reale Con il portale Ottopagine.it 41 anni fa Il terremoto Del 23 ottobre Ottale Il 23 novembre Del 1980 Nulla fu più Come prima Apriamo il portale Vediamo appunto Il ricordo Di cui con questo video È Gianni Vigoroso Che ricorda appunto Il terremoto Con gli sfollati E tutti Quelli che sono stati I segni Drammatici Del terremoto Andiamo a vedere L'apertura di Avellino Terzo sacerdote Contagiato dal covid Dopo il ritiro Spirituale In Toscana E poi ancora Scritte Novax Lungo il corso Vittorio Emanuele Continuiamo Benevento Covid Ancora pochi accessi Per le terze dosi Abbiamo già visto Ampiamente Anche con il servizio Quella che è la situazione Coronavirus nel sangue E poi i carabinieri Che celebrano La Virgo Fidelis Potrete trovare anche Un'ampia carrellata Fotografica Che ha documentato La importante celebrazione Dell'arma E poi Caserta Movida Finisce nel sangue 21enne colpito Da un proiettile All'addome Ci spostiamo Sul Napoli Il presidente Che domenica È stato Al San Carlo Quindi è un grande Momento di visibilità Mondiale Per Napoli Criminalità economica Camorra impresa Modelli di relazione Concludiamo Con Salerno Vediamo appunto Qual è l'apertura Della città di Salerno Sempre il caso Loffredo Un vero e proprio caso Quello che si è aperto Con l'inchiesta giudiziaria Che non condiziona La maggioranza E Loffredo Che sarà appunto Presidente di Consiglio Tra i Pellezzanesi Illustri C'è anche Sara Pantuliano Consulente Del team di Biden Vedete appunto Una notizia Che arriva dalla provincia Premiati anche Il rettore della Federico II Matteo Lorito E lo scrittore Domenico Notari Quindi un plauso Ai campani illustri E con questa notizia Si chiude l'edicola Di 8 Channel Vi ricordo i prossimi appuntamenti Con l'informazione Alle 14 in punto Con il TG News E alle 14 e 30 Con tutte le news Del TG Sport Grazie E buona giornata e Il rettore della Lewandadad clouds